Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre temi che affronteremo in questo nostro incontro, partiamo subito con la mozione che è stata approvata, presentata ai consiglieri del PD di Tel Aviv per ripristinare il fondo per il contrasto dei disturbi sulla nutrizione e dell'alimentazione. E poi è arrivato anche il sì al bilancio preventivo per quanto riguarda l'autorità portuale, oltretutto parliamo anche di aree interne e di quanto sia importante fondamentale sostenere la reindustrializzazione con una proposta di risoluzione. Il primo tema quindi parla dell'approvazione in Consiglio regionale con 24 voti favorevoli, una mozione in merito al ripristino urgente del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. L'atto è stato presentato dai consiglieri Scaramelli di Tel Aviv, Nicolai del PD, sguanci di Tel Aviv, sostegni del PD e le arosegnoli del Partito Democratico. Per me una soddisfazione come primo firmatario di un atto che ha impegnato il Consiglio regionale della Toscana con un voto a larga maggioranza per far sì che il Governo possa reintrodurre le risorse sulla questione dei disturbi del comportamento alimentare, una patologia importante che negli ultimi tre anni ha visto raddoppiati i casi, soprattutto di adolescenti, ragazzi e ragazzi che hanno difficoltà a convivere ovviamente con la nutrizione e l'alimentazione, questo comporta una patologia, una cura, di queste questioni si può anche morire se non presi in carico, servono servizi territoriali, un impegno forte del Consiglio regionale da una parte ad attuare i progetti già in corso come Toscana e un impegno a fare in modo che il Governo rimetta i soldi dello stanziamento dei 25 milioni. Il nostro atto in Toscana è il primo atto approvato in Italia come Regione per fare in modo che il Governo torni sulle sue posizioni e mi auguro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni questo avvenga, sarebbe un grande risultato della Toscana, del Consiglio regionale, anche mio personale, per aver coinvolto tutti i colleghi su questa discussione, serve fare qualcosa che vada a favore delle persone, dei ragazzi tenendo fuori, a mio avviso, anche lo scontro politico perché in questo caso non è opportuno, prima di tutto vengono le persone, dopo vengono i destini dei singoli partiti. In Italia abbiamo addirittura più del doppio dei casi diagnosticati da prima della pandemia alla situazione del 2023. È ancora più per questo inaccettabile che il Governo abbia tagliato la prima risposta che lo Stato centrale aveva dato nel 2021, un fondo di 25 milioni di euro, per la Toscana un milione e mezzo di euro, che ha permesso di rafforzare e aumentare la rete degli ambulatori sul territorio, per la presa in carico delle esigenze delle giovani e dei giovani e delle loro famiglie, perché è un autentico dramma. E veramente a dispiace che oggi le forze del centro-destra non abbiano partecipato al voto di questo atto, perché qui non è una questione di scontro politico, è un tema di civiltà. Noi pensiamo che i disturbi alimentari siano la grande frontiera su cui si muoverà il contrasto al disagio giovanile, non solo nel futuro ma anche nel presente. Servono risorse, devono rientrare nei livelli esistenziali di assistenza, però oggi purtroppo costatiamo che ci sono delle forze politiche che non sono state accanto alla nostra battaglia. I disturbi alimentari sono un tema molto serio e penso che debba essere affrontato in questo modo. Negli anni precedenti il fondo stanziato dal governo ammontava 25 milioni di euro. Di questi 25 milioni, 15 negli anni scorsi non sono stati utilizzati, verranno utilizzati per rifinanziare il fondo. Dopodiché con Fratelli d'Italia, con i parlamentari Chiara Laporta e Fabio Roscani abbiamo presentato un emendamento alla Camera per stanziare ulteriori 10 milioni di euro e quindi riportare il fondo ai 25 milioni come negli anni scorsi. Quindi noi pensiamo che già in queste ore il governo con il ministro competente annuncerà il rifinanziamento del fondo nella misura dei 25 milioni come negli anni precedenti e questo qui fa sì che se si ha interesse a raggiungere l'obiettivo e non a fare invece della bieca e strumentale propaganda su un tema importante, su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari, si debba prendere atto dell'iniziativa del governo, vedere che cosa succede nelle prossime ore e poi eventualmente esprimerci. Nonostante in aula i toni si siano alzati oltre il livello di guardia perché sono state usate parole forti. In realtà noi sappiamo da fonti governative che questi fondi non sono stati tolti ma verranno riimmessi. È per questo che alla fine davanti alla protervia della maggioranza che avevamo chiesto di rimandarla in commissione o comunque di aspettare dato che molto spesso succede che quando c'erano loro al governo di fatto ci dicevano tanto è in istudio, è in istudio, è in istudio adesso gli stiamo dicendo che oggi pomeriggio probabilmente il ministro Schillaci ripristinerà quei fondi. Quindi chiedevamo soltanto che venisse riproposto in commissione. Oltretutto ci sono delle questioni regionali che fanno propendere per un mal utilizzo dei fondi rivolti alla bulimia e all'anoressia. In quanto per esempio, io tiro fuori uno dei casi della mia zona, Casa Mora, che pur avendo soltanto sette persone semi residenziali avrebbe la disponibilità di 20 posti residenziali. Ma per orpelli burocratici questo non è avvenuto. Tanto è vero che io ho fatto due interrogazioni. A distanza di un anno, Estar si è mossa esclusivamente con una determina per cercare partner associati. Per dovere di cronaca vi diciamo che il fondo sarà strutturale quello che ha dichiarato il ministro Schillaci nello scorso bilanio invece era stato dichiarato temporaneo. Cambiamo quindi argomento. È stata approvata al Consiglio regionale a maggioranza con il voto contrario dei gruppi di opposizione il bilancio preventivo economico annuale 2023 e pluriannale 2023-2025 delle autorità portuali. Infatti sono previsti investimenti per quanto riguarda quello di bilancio previsionale per oltre 15 milioni, di cui 11 milioni sul porto di Viareggio, 2 milioni e 200 mila euro sul porto Santo Stefano, poi per l'isola del Giglio, Marina di Campo, l'isola d'Elba. Insomma ci sono interventi riprogrammati per circa 450 mila euro. Fra questi appunto l'escavo dell'imboccatura per circa 160 milioni di euro proprio del porto di Viareggio. Stiamo valutando con l'autorità portuale, insieme al Comune, insieme anche a loro che abbiamo coinvolto al tavolo tecnico perché credo sia anche giusto che poi chi sta non sul campo in questo caso ma direttamente insomma vive il mare tutti i giorni debba essere anche ascoltato e considerato e questo credo sia un traguardo molto importante. Continueremo a lavorare, monitorare il tema della draga perché il tema dell'insabbiamento c'è, con finanziamenti anche cospicui, c'è un impegno della regione importante sull'insabbiamento. Quindi ecco, io credo che stiamo andando in una direzione in cui il porto tornerà ad essere un porto centrale perché poi Viareggio è effettivamente una piazza nazionale, è un porto nazionale con un'importanza anche internazionale e quindi da parte nostra c'è la massima attenzione sul monitoraggio dell'attività portuale, stare vicino ai pescatori e provare a rilanciarlo tutti insieme. Presidente Gianni è venuto a Viareggio ma probabilmente è stato un po' frettoloso nel dare alcune valutazioni positive perché l'insabbiamento del porto di Viareggio, dell'avanporto di Viareggio stanno assumendo una situazione di tale gravità per cui i pescatori non sono in grado di lavorare. È due mesi e mezzo per una motivazione o un'altra che già hanno blocchi di attività e incapacità di lavorare per quanto è accaduto. E quindi è necessario, noi l'abbiamo ribadito anche quest'oggi, nel sopralluogo fatto con la quarta commissione, che finalmente si porti a Viareggio una draga in grado di lavorare perché questa non lavora come c'è, un po' d'onda non può uscire, si liberi finalmente nell'immediatezza quello che è il canale che normalmente viene usato per poter entrare e uscire dal porto di Viareggio e si metta in grado di lavorare i pescatori che hanno purtroppo una situazione di grandissima difficoltà, rischiano con le spese che hanno e con le poche giornate di lavoro che hanno avuto a disposizione di chiudere battenti, tant'è vero che minacciano di andarsene da altre parti e ricordo che la manerineria via Regina è la più importante della Toscana, oppure chiedono addirittura la chiusura e si rischia la chiusura del porto. Da parte nostra abbiamo chiesto e insistito anche adesso in aula per aprire un ragionamento in modo da trovare risarcimento e ristori per queste attività, per le imprese, per le cooperative, per le famiglie che oggettivamente vivono di questo lavoro e rischiano di non arrivare più alla fine del mese. Portare un bilancio preventivo 2023, quando siamo già nel 2024, segnala che in questa regione c'è un vizio patologico, cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti. E questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio, per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto, che in realtà non è stato realizzato, c'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio. La sostanza è che il sabbiodotto non c'è, i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche, oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità assolutamente grave per tutte le altre attività. Per questo, come Fratelli Italia, abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza da parte dell'autorità portuale e di mamma regione, perché non hanno in questi anni garantito ciò che si erano impegnati a fare. Cioè un sabbiodotto degno di questo nome garantisca al porto di Viareggio di poter funzionare e di poter in qualche modo fare economia per la Toscana. E' stata approvata in Consiglio regionale con voto favorevole anonimità una proposta di risoluzione in merito all'istituzione di progetti regionali con finalità a sostegno della reindustrializzazione all'interno delle aree interne della regione Toscana. Ricordiamo che sono le aree interne 6, Casentino-Valtiberina, Garfagnana-Lunigiana-Media-Valle del Serchio-Appennino-Pistoiese, Valdarno-Valdisieve-Mugello-Valdivisenzio, Ammiata-Grossetana-Amiata-Valdorcia-Collina-Delfiora, Alta-Valdera-Alta-Val di Cecina-Colline-Metallifere-Val di Merse e Val di Chiana-Senese. Inoltre da considerare una speciale area di livello nazionale riservata alle isole minore e comprendente l'arcipelago toscano. La nostra commissione si è sempre mossa appunto nella logica di creare il più ampio consenso ma anche di dare indirizzi precisi. Noi non pensiamo che le aree montane e interne siano solo luoghi di camminate, di borghi, di benvivere, di storia, di cultura, tutto bene, ma sono anche luoghi dove si produce ricchezza e senza presidi occupazionali questi luoghi muoiono. E noi pensiamo che non ritornerà la grande industria, ma l'attività manifatturiera, sì, questa debba rafforzarsi in questi territori. In questa legislatura abbiamo fatto una scelta molto importante, abbiamo riservato 900 milioni di euro della programmazione europea destinata alla Toscana per questi territori, per le imprese e per le realtà che operano in questi territori. Noi alla Giunta che cosa chiediamo? Di fare quello che viene fatto anche in alcune aree della Toscana, un'attività di cosiddetta scouting, cioè di ricerca di soggetti imprenditoriali che, viste anche le misure di sostegno messe in campo dalla Regione, facciano attività di reindustrializzazione in questi territori, perché il manifatturiero non può scomparire, non deve scomparire da queste aree e deve collegarsi al turismo e all'agricoltura. Però la montagna non è solo appunto borghi e luoghi da cartolina, è luogo dove si produce ricchezza e dove deve ritornare con più forza la manifattura. Le risorse ci sono, adesso chiediamo agli uffici della Regione, che già fanno questa opera in varie aree, di dedicarsi particolarmente al recupero delle zone industriali smesse che purtroppo sono tante in questi territori e che invece devono ritornare a vivere per creare ricchezza e quindi contrastare lo spopolamento. Con questa risoluzione si spera di poter fare in modo che in alcune di queste aree ci sia, diciamo, una, chiamiamola industrializzazione di ritorno, perché alcune avevano delle industrie anni fa che non ci sono più, basti pensare a Campo Tizzoro, che è stato un danno per tutta la montagna pistoiese e quindi si spera in questo modo di poter risolvere i problemi delle aree interne montane. Reindustrializzare quando le aziende delocalizzano dalle aree interne, se non se ne sono già andate, e in alcuni casi già parliamo e sappiamo e conosciamo dalla cronaca la difficoltà a mantenere in equilibrio il settore industriale laddove lo consideriamo invece al sicuro, ci impone appunto di raccomandare alla Giunta una massima attenzione. Perché? Perché tutte le aree interne della regione toscana, lo scoprirà la Giunta regionale quando metterà, diciamo, attuazione, o metterà a mano, metterà all'opera sul contenuto, laddove si vogliono riportare le industrie, servono a riportare anche i servizi partendo dalle infrastrutture. Quindi finalmente noi abbiamo aderito, perché sostanzialmente verrà ancora più alla luce come quando all'interno delle aree interne sia necessario intervenire a 360 gradi perché non c'è industrializzazione dove mancano strade, servizi, internet e tutto quello che sostanzialmente può essere di sostanziale aiuto a una ripresa industriale. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, le delucidazioni e le informazioni c'è il sito www.inconsiglio.it e vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra sette giorni, sempre dentro il Consiglio. www.inconsiglio.it